Musica Ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale Come prima cosa vi ricordo subito se ancora non l'avete fatto Di iscrivervi al mio canale cliccando al tastino che trovate proprio sotto il mio video E attivare la campanella così da non perdere le prossime uscite E come al solito che vi aspetto anche su Instagram Ma sotto le info box trovate tutti i link di riferimento per quanto riguarda i miei social Finalmente torniamo a parlare di profumi So che questo è un argomento che sta molto a cuore sia a me ma anche a chi mi segue E quindi parliamo di profumi d'inverno come avrete capito dal titolo L'autunno e l'inverno portano con loro un tempo e un umore diverso ovviamente dall'estate I lunghi giorni d'estate sono ormai finiti E al loro posto appunto arriva la neve, la cioccolata calda e l'armadio piena di magliette short Lasciano al posto maglioncini caldi e morbidi Quindi con il cambio di stagione è più che naturale scegliere anche di cambiare le profumazioni E quindi accantoniamo un po' le note fresche e floreali appunto che ci accompagnano durante l'estate e la primavera Per dare posto alle profondità di legne e delle resine che accompagnano appunto le profumazioni invernali Che poi tra l'altro sono quelle che io adoro di più, quelle orientali, calde e intense E quindi oggi parliamo di profumi, dei dupe, della risè Quindi la risè è un brand di profumi equivalenti o comunque di dupe di prima qualità Che offre un concetto alternativo appunto nel mondo delle profumazioni Perché produce equivalenze di profumi di fama mondiale ad un prezzo accettabile È un prezzo imbattibile e si distingue appunto per l'alta qualità dei suoi prodotti Che ovviamente costano meno dei profumi di marca Ma che hanno la stessa o anche migliore durata sulla pelle Quindi meravigliosa Quindi non si tratta di copie o di imitazioni Bensì il termine dupe indica la presenza di una somiglianza I clienti possono scegliere tra più di 200 fragranze diverse Disponibili in formato da 50 ml o 100 ml Che sono circa il 70% più economiche rispetto ai profumi di marca tradizionali Tutte le profumazioni della risè sono vegane Quindi non contengono sostanze animali E questo per me è importantissimo E non sono ovviamente testate sugli animali E che fanno in più? Rinunciano ovviamente sia alla pubblicità costosa E sia ai soliti flaconi stravaganti Ma si concentrano ovviamente sul profumo stesso Per questo lo andiamo a pagare molto di meno rispetto al profumo di marca E quindi i prezzi sono i 50 ml che costano intorno ai 18,95 euro E i 100 ml 32,95 euro E quindi dei prezzi davvero imbattibili I profumi possono essere acquistati sul loro negozio online Che ovviamente sotto in info box vi lascio il link del negozio Offrono un servizio di consulenza in chat, su whatsapp e sulle pagine social E quindi sotto in info box trovate tutto E quindi adesso voglio parlarvi di tre meraviglie appunto di questo brand Che sto amando alla follia La prima profumazione di cui vi parlo Poi farò anche un video dove vi mostro Perché sul loro sito è possibile anche acquistare cofanetti Con tutti i campioncini delle profumazioni per trovarli Fantastico Trovate anche le moillettes per i profumi Le classiche, i classici cartoncini per annusare i profumi Fantastico ovviamente con il nome del brand E adesso vi voglio parlare del profumo che ho preso per me Questa è la scatola della profumazione Bianca e oro con appunto il nome Larisé E qui troviamo il numero della profumazione Perché ogni profumazione è classificata da un codice, da un numero E questo è il numero 168 Come vedete la bottiglia è semplice Perché come vi dicevo all'inizio Il loro impegno maggiore sta ovviamente nel prodotto all'interno della bottiglietta Più che della bottiglietta stessa E quindi questo è eccezionale Il profumo è questo È il Larisé 168 Fava Tonka KK e Gelsomino Quindi questa è una profumazione per me Che è proprio una celebrazione per quanto riguarda la femminilità La sensualità, l'eleganza Senza tempo Ma comunque è un profumo che è caldo, intenso Appunto perfetto per quanto riguarda l'inverno Ma chi ha comunque anche se è sensuale come profumazione Ha una parte romantica È ovviamente una composizione orientale Di attraente freschezza al tempo stesso Che nasconde un po' un lato oscuro nella profumazione L'ho scelto appunto per questo Perché mi rispecchio tantissimo E questo è il dupe Questo è il dupe del fantastico Carolina Herrera Good Girl Un profumo meraviglioso Che ho sempre sognato di acquistare Ma il prezzo era troppo alto E per chi come me è un monoreddito Quindi abbiamo soltanto un'entrata E è quasi impossibile avere Perché è davvero un prezzo esagerato Ma ho potuto realizzare il mio sogno appunto Grazie alla Risé Perché un 50 ml Come vi dicevo sta a 18,95 euro Quindi è abbordabilissimo E veramente per tutti È acquistabile per tutti Lo spruzzo È un profumo che come potete vedere In questi giorni ho indossato tantissimo Ha una durata pazzesca Davvero meravigliosa Al suo interno vi dico le note di testa Troviamo foglie di violetta Fresia, loto e melone E acqua di rose Nel cuore andiamo a trovare Chiodi di garofano, giglio, mulietto, peonia e rosa Nelle note di fondo troviamo Accordo di ambra, legni esotici, moschio, smanto, sandalo, tuberosa e cetro rosso È una profumazione super femminile Ha una durata pazzesca Appena lo andiamo a spruzzare Appena lo andiamo a spruzzare si senti tanto la parte floreale data appunto dalla violetta Che gli dà questo aspetto davvero molto romantico Poi troviamo la fresia, il melone anche Che gli dà questo aspetto di freschezza iniziale Poi nel cuore invece andiamo a trovare La peonia, la rosa Che lo rendono femminile E sempre femminile e romantico Per poi scendere in questo fondo che amo intensamente Che gli vanno a dare appunto Questa intensità, questo lato oscuro Questa parte avvolgente, calda, intensa Perfetta per l'inverno Perché troviamo sia gli accordi di ambra E lo smanto, il sandalo, la tuberosa Che è il fiore del peccato Che gli dono questa intensità e questa sensualità Meravigliosa, davvero fantastica E quindi lo trovo un profumo perfetto Da indossare in questo periodo Lo sto praticamente mangiando E sulla risè è possibile acquistare anche i refill Come vedete vi faccio vedere anche come si utilizza Io l'ho inserito qua dentro E me lo porto sempre appresso Anche se non c'è bisogno di ritocchi Perché questa è davvero una profumazione Che ha una durata pazzesca Intensissimo, bellissimo Quando lo metto la mattina che mi sveglio Ancora me lo sento addosso Mi accompagna per tutta la notte Perché è davvero una durata meravigliosa Troppo, troppo bello Volevo cercare su Fragrantica Appunto il profumo di Carolina Herrera Il profumo in pratica sarebbe quello a forma di scarpetta E vi posso garantire Perché questo è un profumo come vi ho detto Che sognavo da tanto tempo Che è veramente identico Ma trovo che questo della risè Abbia un non so che in più di particolare Che lo rende davvero ancora più bello E meraviglioso da indossare Un profumo che sto amando alla follia Davvero intenso, femminile, sensuale Ma sempre con questo lato oscuro Che ti accompagna, che lo avvolge Che ti scalda appunto durante l'inverno E quindi un profumo davvero fantastico E meraviglioso Quindi grazie alla risè Perché finalmente posso indossare Un profumo che sognavo Ma che per me è ancora più bello Intenso dell'originale E posso portarlo sempre con me E ha una durata davvero pazzesca Quindi un profumo veramente eccezionale Questo profumo sul sito Lo potete trovare nelle sezioni Passion, Trend o Temptation E il refill che consigliano ad abbinare Con questa profumazione Quello oro o quello nero Meraviglioso, lo amo E io infatti ho il refill oro Per questo profumo È un profumo ovviamente orientale E floreale Quindi perfetto per l'inverno Il secondo profumo di cui vi parlo È da uomo È da uomo perché ho voluto Prendere un profumo anche per Diego La scatola è black E argentata E questo è il 470 Di Larisé È appunto il 470 Arancia Vetiver Pepe È un profumo che si concentra appunto Sulla materia Sulla trasformazione Un romanzo sull'alchimia E degli alimenti È un profumo tra cielo e terra Quindi è un viaggio pieno di poesia Potenza Ma comunque dinamismo Per l'uomo Dinamico E comunque forte Legnoso Vegetale Minerale Questo è appunto Larisé 470 Userò appunto Un cartoncino Per Niffarlo Mamma mia ragazzi Che meraviglia Che meraviglia Allora Nelle note di testa Troviamo L'arancio Il pompelmo Nelle note di cuore Appunto Troviamo Il Pepe rosa La foglia di geranio E nelle note di fondo Troviamo Un paciule Il fetivello Per il cedro E il benzoino È un profumo Meraviglioso E questo in pratica Sarebbe il loop Di Un profumo Che ha sempre Sognato E che avrei voluto Tantissimo Regalare a Diego Ma per Che ha un prezzo Davvero Troppo Troppo alto Non potevo Prenderli Anche perché Sinceramente Spendere 90 euro Ma Per un profumo Mi sembrava Una spesa Troppo eccessiva Quando appunto Troviamo Meraviglie Come quelle De la risè A 18 euro E 95 E che Sono Uguali E anzi In alcuni casi Anche migliori Perché andare a spendere Tutti quei soldi La trovo veramente Uno spreco Ecco E il profumo Il profumo Appunto Il loop Di questo Di Diego È lui È Hermes Terre di Hermes Un profumo Che ho sempre amato Un profumo Per un maschio Intenso Un profumo Da maschio Molto intenso Carnale Ma comunque Il tempo stesso Fresco Perché Diego Comunque Ama le profumazioni Che Si Legnose Calde Ma che abbiano Una parte Una parte Molto fresca Come questo Perché appunto Nella testa Andiamo a trovare Sia l'arancia Sia l'arancia Sia il pompelmo Che comunque Devo dire In queste profumazioni Anche le note di testa Che storicamente Sono quelle che svaniscono Di più Devo dire Che rimangono E si sentono a lungo E Poi ha questo Peperosa Che lo rende Particolare Io amo i profumi Col peperosa Per questo Anche ho scelto Questo Per Diego E ha un fondo Che è Intenso Caldo Troviamo Il Paciolo Il Vetivera Ma comunque Sempre il cedro Che appunto Gli dona Questa freschezza A lungo E per Diego È fondamentale E quindi È una profumazione Davvero Molto bella Intensa Particolare Hanno una durata Davvero Pazzesca Sono Meravigliosi Queste profumazioni E Vi giuro Se non l'avete provati Vi consiglio di acquistarli Perché sono Davvero qualcosa Di unico E meraviglioso Anzi Sotto nell'info box Vi lascio Un codice sconto Per voi Del 20% E lo lascio Anche sopra Impressione Mi raccomando Sfruttate Questa super occasione Perché già I profumi Costano poco In più In più E vi lascio Il codice sconto Michela P20 Per averli Con il 20% Meno È qualcosa Di Meraviglioso Quindi mi raccomando Affrettatevi L'arizzo 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 Fa parte Fa parte Anche in più Anche in questo caso Usiamo Un cartoncino Ragazzi Questa è una fragranza Che è appunto Un'essenza pura E io adoro Le essenze pure Anche E mischiarle Agli altri profumi A me Mi piace A me Mi piace Infatti questo Ci sta da dio Con il mio L'arizzo 168 Sono perfetti Insieme Perché la vaniglia Dà questo aspetto Dolce e sensuale Che per me Rende unico Ogni profumazione Quindi non potevo Non prendere Anche lei Chi mi conosce Sa quanto io Amo La vaniglia Questi profumi Hanno una persistenza Pazzesca Davvero Sono intensi Avvolgenti Sono profumi Che comunque Lasciano scia Che si fanno sentire Ma senza disturbare Perché appunto Sono profumazioni Talmente belle Talmente meravigliose Che è un piacere Per noi E per chi ci sta accanto Indossate Quindi davvero Meravigliosa Io Porto sempre con me Il mio refill Con dentro Il mio fantastico L'arizzo 168 Perché è un profumo Che amo alla follia Finalmente posso avere Un profumo che amavo Ma che non potevo Permettermi Perché costava davvero Troppo Adesso finalmente Posso averlo con me Portare il mio refill Sempre appresso Anche se Fortunatamente Con questa profumazione Non c'è bisogno Di ritocchi Perché come vi dicevo Ha una durata Meravigliosa Sono tre profumazioni Meravigliose Che amo Anche Diego È innamorato Ho perso Del suo L'arizzo 470 È un profumo fantastico Come vi dicevo Per voi C'è un super codice Sconto Del 20% Da usare Appunto Sul sito Sotto nell'info box Trovate Il link Per acquistare I prodotti La risè Io vi lascerò Il link Anche delle profumazioni Che ho preso Per me Sotto nell'info box Mi raccomando Approfittatene Di questa super offerta Di questo super codice Per acquistare Profumi Vi ricordo Che comunque Sul sito Potrete avere Il servizio clienti Sempre a vostra disposizione Sia per quanto riguarda Le chat Sul sito Sia per quanto riguarda I social Che trovate tutto Sotto nell'info box Ma anche su whatsapp Vi guideranno Potrete chiedere a loro Il profumo Dei vostri sogni Qual è L'equivalente Nel loro sito Quindi vi guideranno Vi aiuteranno Sempre Nella scelta Della profumazione Giusta per voi Io ringrazio di cuore La risè Per queste tre meraviglie Sono davvero Meravigliosi Li amo Mi scalderanno Durante tutto questo inverno Sono perfetti Anche come idee regalo Per chi amiamo A Natale Ma in ogni momento Perché un profumo A questo prezzo Si può regalare davvero In ogni momento E non solo a Natale Quindi io li ringrazio Ringrazio tutti voi Fatemi sapere Se avete mai provato La risè Qual è il vostro profumo Del cuore Che vorreste E magari sotto più Guido anch'io Vi dico Qual è il dupe Che potete scegliere Anche se ha un servizio Unico e meraviglioso Però se posso aiutarvi Lo faccio volentieri Scrivetemelo sotto In un commentino Mi raccomando Vi ricordo Il codice sconto Per voi Io ringrazio la risè Per queste meraviglie Ringrazio tutti voi Vi mando un bacione grande Da un mondo profumato E ci vediamo la prossima volta Grazie a tutti 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 Grazie a tutti